Altri due passi verso la vetta della classifica che adesso dista sette lunghezze, ma soprattutto altri tre punti utili per mettere in sicurezza il secondo posto. Come da pronostico, l'Avelino batte la Paganese, non senza patemi d'animo, coglie la sesta vittoria di Fira, allunga 12 la serie di risultati positivi e regala un'altra settimana da sogno alla tifoseria, anche perché il calendario, sabato alle 15, prevede la trasferta degli Erpini a Monopoli e lo scontro al Liberati tra la capolista di Lucarelli e i pugliesi di Carrera. Uno snoto cruciale della stagione a cui l'Avelino arriva con in pop il vento dell'entusiasmo. Nel suo solito 3-5-2, come da pronostico, gli acciaccati Forte e Maniero hanno lasciato il posto a Pane e Bernardotto, mentre Dossene e De Francesco hanno sostituito gli squalificati. L'ex regino, contrariamente al solito, ha agito nel ruolo di interno con l'obiettivo di avere più spazio in supporto degli attaccanti, con Sirignano e Zanini squalificati, ma anche Mattia alle prese con la quarantena, invece gli ospiti di Di Napoli si sono schierati a specchio, anche se Diop e Guadagna hanno spesso agito pure loro dietro la linea della palla. L'atteggiamento, guardingo e ordinato degli azzurro stellati, ha inizialmente permesso alla squadra dell'ex vice di Campi Longo di tenere i bianco-verdi lontano dalla porta di Baiocco, per vedere una conclusione verso la porta ospite. Infatti c'è stato bisogno di attendere il tredicesimo, ma il pallonetto di destro, disegnato da Tito sul respinto del portiere, è risultato sbilenco. Un'occasione pericolosa che non è servita a schiodare la partita dall'inerzia della noia perché la paganese è stata brava a chiudere qualsiasi spazio ai bianco-verdi. Non a caso i lupi si sono rivisti solo alla mezz'ora su corner dalla sinistra di Tito. L'ex vibonese ha pescato nel cuore dell'aria Silvestri, ma in mezzo ad un nugolo di maglie è stato sbilanciato e atterrato con astuzia da Onescu. Vibranti le proteste degli Irpini che hanno accerchiato l'arbitro in massa fino a quando quest'ultimo non ha calmato le acque mostrando il cartellino giallo a Silvestri. Sempre sugli sviluppi di calci da fermo affidati al sinistro di Tito, punizione corner, De Francesco ha raccolto due respinte della difesa ospite, ma nel primo caso ha calciato fuori dal limite e nel secondo a colpo sicuro, quasi nell'aria piccola, ha trovato bramati sulla traiettoria. Caricati a mille per le notizie provenienti dal San Nicola di Bari, Aloe e compagni sono rientrati in campo con l'intenzione di aggredire l'avversario. Malgrado ciò l'Avellino è per altri 20 minuti andato a sbattere puntualmente contro il bunker eretto dalla Paganese anche perché Bernardotto e Sant'Aniello sono rimasti statici avulsi dal gioco. Non a caso la carica in casa erpina è suonata puntuale quando sono entrati felle in maniero che hanno portato un peso diverso in attacco. L'ex Monopoli in particolare ci ha messo appena un minuto per offrire una palla d'oro ad Aloe che è scivolato sul più bello ma anche per tentare la conclusione personale ribattuta da Baiocco. Una doppia fiammata replicata da Carriero capace prima di farsi deviare in corner un sinistro dal limite e poi di sciupare un'incredibile ripartenza di 50 metri sbagliando l'ultimo passaggio. A furia di insistere poco dopo la mezz'ora Cicagna ha agganciato in aria il destro di Carriero e per Petrella di Viterbo stavolta non ci sono stati dubbi nell'indicare il dischetto da dove con rabbia esplosiva Maniero ha scaraventato alle spalle di Baiocco il destro vincente. Per l'ex Pescara è stato il gol numero 100 in carriera tra i professionisti festeggiato con tanto di maglia celebrativa. Un gol che ha spianato la strada ai lupi anche perché la Paganese ha alzato bandiera bianca. Gli ospiti rimasti in dieci per l'espulsione di Volpicelli sono stati nel finale puniti anche da Aloe che al 39esimo ha trovato il diagonale dal limite che ha chiuso la contesa regalando un'altra settimana da sogno ai tifosi irpini.